Buonasera a tutti ragazzi, ben ritrovati dal vostro bomber nerazzurro, lo so in tenuta interista, ma parliamo della partita finita tra Pisa e Venezia con il risultato bugiardo di 2-2. Pisa che rimane anche in 10 con l'espulsione di Robert Gucker al 94. L'albitro, il signor amabile, 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 che non so da dove venga, ma complimenti pezzo di merda, complimenti pezzo di merda, complimenti, veramente i miei complimenti bastardo di un albitro, veramente i miei complimenti ragazzi, al signor albitro amabile, 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 il signor amabile, il signor amabile. Pisa che ha fatto la sua grande e modesta partita, hanno comprato le cuffie nuove ragazzi, come potete vedere, ha fatto la sua modestissima partita, non ho niente da dire ai ragazzi, perché hanno fatto veramente il massimo, andando anche a rischiarla, cioè a rischiarla. Per me il Pisa oggi ha vinto, per me il Pisa oggi ha vinto ragazzi, cioè è stato un furto, un furto clamoroso, la palla è andata a sbattere qua, qua, si fischia al calcio di rigore, complimenti, e i complimenti ancora di più, ancora più complimenti, complimentoni, le voglio fare al guardaline, che era dalla parte del giocatore nostro del Pisa, mi sembra Meroni, che si vede il guardaline, lo vede se è posizionato bene, che l'ha presa qui, complimenti, grazie arbitro, grazie guardaline, per questa fantastica partita rubata, grazie. Io veramente faccio tanti applausi alla mia squadra, veramente perché siamo stati anche bravi, siamo andati in vantaggio di due reti, abbiamo tenuto con un gol fortunoso, loro sono arrivati al 2-1, poi la svolta dell'albitro che rovina tutto, perché ha rovinato tutta una partita, complimenti veramente, fate schifo al cazzo, fate veramente schifo al cazzo, e il prossimo anno voglio, vabbè, a parte ci deve essere la VAR perché mi sono rotto veramente delicazzo, di vedere queste cose, oscene, questi cazzo di arbitraggi osceni, 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 no, mamma mia, a pensare che alcuni vengono anche dalla Serie A, alcuni sono arbitri che arbitrano la domenica anche in Serie A, complimenti, complimenti veramente ragazzi, complimenti. Non vedo che ci sia l'introduzione della VAR che risolverà tutti questi cazzo di problemi, al mio Pisa non sento di dire niente, ora venerdì alle 2, alle 14 del pomeriggio, andremo a giocare a Brescia, campo facilissimo tanto, vero, un campo facilissimo, oggi non ci servivano quei punti, per poi andare, magari anche a perdere a Brescia, a me eri consapevole oggi di aver fatto 3 punti, no, non ci sono parole ragazzi, non ci sono parole, sempre solo Forza Magico Pisa ragazzi, e che dire, tutto il resto passa, ma il Pisa resta, quindi andiamo avanti, non vedo l'ora finisce sto cazzo di campionato perché veramente ne ho le palle piene, non ne posso più, sempre Forza Pisa guys, un bacione a tutti, ci vediamo venerdì no perché lavoro, quindi non sarò in live, oggi non ho fatto da live perché avevo casino in casa, poi mi accompagna a lavorare, mi devo guardare mio figlio, quindi ragazzi, la famiglia sempre prima di tutto, niente boys, ci sentiamo, ci aggiorniamo, ci vediamo domenica per l'Inter contro la Saptoria, i campioni in Italia siamo noi, ricordiamolo, bene ragazzi dai, buon proseguimento di giornata a tutti, niente ragazzi, non fate il cazzo che vi pare, un bacio